E' vero, il tempo è la più grande risorsa dell'uomo, e proprio come ogni cosa di questo mondo, fatto di materia solida e di risorse, è difficile da riperire e si consuma in fretta. Quel poco che abbiamo, quindi, è bene saperlo maneggiare. In fondo non è questa una forma di ricchezza. Ad esempio, per una band, fare le prove è la forma più bella dello stare insieme, del condividere, appunto, una parte di questa ricchezza. Ha anche a che vedere con l'armonizzare, tanto quanto costruire l'intera melodia assieme. Ogni accordo deve forzatamente fare da lancio per il seguente. Stai preparando una sessione di fondo che ci stiamo. E' Marco venuto col caffè? E' Marco che è venuto col caffè. E allo stesso tempo, fa parte del tutto, affinché, mentre la si sviluppa, si mostra per quello che è una meravigliosa unità. Nicola, sei un video? Devo trovare il maglione che si è in tonalità con il muro, che si spaglisca. Ecco, magari non tutta aggraziata, però personale. E' arrivata la Brioche in più! Insomma, autentica. Da quando ogni schermo, ogni monitor, è diventato uno specchio, non riusciamo più a esimerci dal raccontarci. E ogni dispositivo è un diario. O una scatola nera. Vedete un po' voi. Campatina Lamparello. Era quelle parallele, quelle parallele. Campatina Lamparello. No, mi ricordo, mi ricordo. Solo Campatina Lamparello. Shortcut in fondo vuole essere solo ed esclusivamente questo. Una serie di file aperti verso la nostra vita e il racconto il più possibile onesto di quello che siamo. Very good. Very, 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 very good. Che cazzo ti ha dato? È riuscito a cambiare e a tirare sotto l'immobile. Hai trovato anche la bella che era sparita un mese fa. No, la bella è la sua nuova direzione. C'è l'amore in queste chat e in questo tempo speso a testa china. Ve lo siete mai chiesti? Lo ritrovate? Basterà cercare tra le note vocali una delle tante oppure rileggere chilometri di messaggi mandati a orari improbabili. Ed è davvero lì che troveremo le nostre risposte. in uno di quei racconti che poi finiscono in un bagno di sangue. 22 più uno. Gaiatone, c'è già un dolore. Gaiatone, c'è già un dolore che non dimenticare l'amore. Tinder, l'incontro, l'amore, la fine. Camilla come sta? Gaiatone, c'è già un dolore che non dimenticare l'amore. Gaiatone, c'è già un dolore che non dimenticare l'amore. Gaiatone, c'è già un dolore che non dimenticare l'amore che non dimenticare l'amore. Gaiatone, c'è già un dolore che non dimenticare l'amore. Gaiatone, c'è già un dolore che non dimenticare l'amore. Gaiatone, c'è già un dolore che non dimenticare l'amore. Gaiatone, c'è già un dolore che non dimenticare l'amore. Gaiatone, c'è già un dolore che non dimenticare l'amore. sulle labbra sue e pensare che ero venuto soltanto me scopare con te ed anche se non lo volesse altro dio giù dall'Olimpo l'arma che soffia per ridarmi la pelle un'altra volta ancora ed anche se non lo volesse alcun dio il rosso di casa tua è come l'inverno da qui non voglio uscire mai mai ok prometo tu non ci sei più tu non ci sei più e e Credo che alla fine, sì alla fine di tutto, lasceremo più domande che risposte. Ed è sicuramente un modo amorevole di continuare a raccontare la nostra storia. Sono pare di mangiare gli hamburger che tu non hai un'idea. Ah, questa sera ti spacco. Perché questa è la nostra storia. Non ve l'abbiamo detto. Maggiate voi tranquilli. Andate e prendetene tutti. Esatto, questo è il mio sangue. La mia carne. La mia crema. Che schifo che diceva. Era un altro professore di elettrotecnica. Era un altro professore di elettrotecnica. La resistenza. Sì, era una merda così. Però per spiegarti non mi ricordo che cosa, cioè che tipo si mischiava quando devi fare questo calcolo, devi mischiare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro. Lui ti metteva, tu hai il campanello e la lampadina. Quindi diceva campadina, lampanello, campadina, lampanello, per ricordare di mischiare. Un po' come te quando poi sono vicino. E poi ti metto il tompano. Poi c'era la gnocca alla porta, la gnocca alla finestra, che tu non ti andavi a muovere il collo. E tu non ti andavi a muovere il collo. E tu aveva scaldato. Doveva buttare un po' di alta. Eh sì, è proprio chiusa, te lo stavo per dire. Cosa? È proprio chiusa. Te lo stavo per dire che è proprio, proprio chiusa. One, two, three. One, two, three. Anche se non lo volesse alcun dio, il rosso di casa tua è come l'inferno. da cui non voglio uscire mai.